Il neurologo come svolge una televisita e quali competenze deve avere e come interagisce con il paziente? Ce lo spiegano le linee guida elaborate dalla SIN, la società italiana di neurologia, presentate nell'ambito del progetto Criteri per la certificazione del neurologo digitale, valorizzazione delle prestazioni e aggiornamento dei LEA, ideato da Ladies First e realizzato in coordinamento con Agenas. Ne parliamo con il dottor Michele Romoli. Parliamo in particolare nell'ambito dei criteri per la certificazione del neurologo digitale della neurologia vascolare? Sì, ovviamente questo viene compreso all'interno dei criteri della certificazione per neurologia digitale, che è il primo passo per cercare di inquadrare quali sono le competenze e le caratteristiche necessarie al neurologo, sia al neurologo in formazione sia al neurologo già specialista, per poter applicare la telemedicina nella teleneurologia. Nell'ambito specifico queste competenze poi andranno calate a seconda delle varie sottospecializzazioni e delle varie sottobranche della neurologia. Nella parte vascolare ovviamente esistono già delle applicazioni pratiche, esistono dei software per la gestione dei percorsi del percorso ICTUS in generale, che devono essere utilizzate per cercare di snellire i protocolli e gestire adeguatamente le patologie neurologiche tempodipendenti. Quindi in questo contesto la certificazione permette di dare ancora più valore sia allo specialista e di dare ancora più possibilità ai pazienti di sapere di essere gestiti all'interno dei migliori protocolli possibili. La telemedicina e la certificazione cosa implicano per la gestione della patologia vascolare? In generale implicano una migliore qualità di cura, nella patologia vascolare e nello specifico implicano la capacità sia del percorso, sia dello specialista, sia del paziente di potersi trovare all'interno di una migliore qualità clinica e quindi di essere gestiti nel miglior modo possibile quando occorrono delle patologie neurologiche tempodipendenti. In particolare quali sono i pazienti che potranno beneficiare della trevisita in questo ambito? Beneficiano sia i pazienti nell'ambito acuto, quindi i pazienti coinvolti da patologia neurologica vascolare, ma beneficiano anche i pazienti con patologie neurologiche o neurovascolari croniche che necessitano di follow-up più lunghi e di visite ambulatoriali. Si è pensato a come alfabetizzare i pazienti oltre agli specialisti? Assolutamente sì, questo è un argomento di grande discussione. Sarà necessario preparare sia lo specialista sia preparare anche la popolazione permettendo dei percorsi educativi che possano far approcciare alla teleneurologia la maggior platea possibile nel modo più semplice possibile e più user-friendly possibile.